...di rimini, i padroni di casa, i maestri, l'interventi e Sandra Filippi. E loro si presentano a una polca da titolo marezzata. E loro si presentano a una polca da titolo marezzata, i maestri, i maestri, i maestri, i maestri, i maestri, i maestri, i maestri. E loro si presentano a una polca da titolo marezzata. E loro si presentano a una polca da titolo marezzata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.